e oggi si comincia così un po più dark del solito perché andiamo a vedere un'inquietante struttura che è nata nei primi anni 70 come colonia montana e che è diventata in seguito l'istituto nazionale contro le malattie è una struttura molto grande a più piani che però non sono più agibili perché come potrete vedere tra poco le scale sono in pessime condizioni e i soffitti stanno lentamente cedendo quindi abbiamo deciso di non altre passare il primo piano purtroppo pochi documenti rimasti all'interno della struttura si fermano al 1978 quindi si presume che quello fosse l'anno della sua chiusura e del suo abbandono ho voluto visitare questa struttura perché ho letto che ci si poteva trovare molto dell'arredamento originale all'interno tra cui magari i banchi di scuola il reparto infermeria agli alloggi dei dipendenti le cucine armadietti giochi però quando siamo arrivati abbiamo visto che praticamente è stato portato via quasi tutto quindi quello che vedrete è quello che finora è rimasto e niente io vi lascio il video fatemi sapere se vi piace e fatemi sapere anche se vi sono mancato perché so che apprezzavate molto il video delle esplorazioni dei luoghi così abbandonati era da un po che non le facevo quindi sono contento di portarvi di nuovo un'altra esplorazione un'altra esplorazione di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.